Benvenuto su Gossip in the News. Prima di aggiornarti sulle ultime notizie ti invitiamo a iscriverti al canale. Per noi il tuo contributo è importante. Grazie di cuore. Il padre di Filippo Turetta ha rilasciato una dettagliata intervista ai media, trasmessa durante una puntata di Chi l'ha visto. Nicola Turetta, parlando della tragica vicenda, ha esordito con un accenno alla moglie, affermando, mia moglie è molto giù. Sicuramente ci è caduto il mondo addosso. Aspettarsi questo da nostro figlio è una cosa impensabile. Una tragedia immensa per una mamma. Successivamente, ha ipotizzato che il figlio non avesse inizialmente l'intenzione di uccidere Giulia Cecchettin, ma forse aveva in mente di sequestrarla per impedirle di partecipare alla sua seduta di laurea. Ha dichiarato, io ho pensato questo, fino all'ultimo, perché ho sentito Gino e sua figlia Elena dire che lui non voleva che Giulia facesse la laurea prima di lui. E quindi io penso che lui volesse sequestrarla, rapirla per non darle la soddisfazione e dopo lasciarla. Purtroppo le cose sono sempre peggiorate. Forse voleva farle paura, nel senso di costringerla, sali in macchina con me, vieni via. Quindi aveva un coltello magari che lei potesse, ma queste sono tutte cose, che invece poi la cosa è precipitata e lui gli è saltato un embolo. Penso che lei l'abbia uccisa lì? Non so io adesso, nel senso che questa tragedia sia finita in questo frangente. L'unica spiegazione potrebbe, perché non è una cosa razionale, cioè una persona che ami, che le fai i biscotti, prepari tutto, che la porti a casa. Un bene così non può sfociare in una tragedia del genere. Ci vorrebbe Freud perché mi dia delle spiegazioni. Nonostante le ipotesi avanzate, il padre nega che Filippo avesse dimostrato possessività nei confronti dell'ex fidanzata, contraddicendo le dichiarazioni della sorella di Giulia. Tuttavia, questa negazione è stata computata dai messaggi di Giulia emersi pubblicamente nell'ultima settimana. L'uomo cerca di delineare una visione più umana del figlio, negando che sia un mostro, poiché, afferma, non erano mai accaduti episodi preoccupanti in passato, non puoi essere un angelo, un agnello, fino a quel maledetto sabato. Infine, Nicola Turetta tocca un punto delicato, definendo Filippo un bambino e afferma che alcune dinamiche della tragedia devono essere comprese in modo diverso. Considerando la fragilità giovanile, partecipa anche tu commentando il video e iscriviti al canale se vuoi restare aggiornato. A presto!